Gentili telespettatori, buona giornata. Liliana Segre a questo punto con gli avvocati va in procura e va a sporgere querela su 23 persone sconosciute che lei non ha mai conosciuto, che su internet gliel'hanno dette di tutti i colori, online. Tra questi 23 persone sconosciute ce n'è una che si conosce, che è quello che si fa chiamare Chef Rubio, che poi da quello che si è capito non è uno chef, non ha un titolo da chef, ma lui è diventato Chef Rubio. Un personaggio che è diventato noto non tanto per i piatti che prepara, ma per il suo atteggiamento spesso fuori dalle righe, soprattutto contro Salvini. C'è stato un periodo dove lui ogni giorno diceva qualcosa contro Salvini perché ogni giorno i giornali gli facevano l'articoletto. Chef Rubio ha detto, Rubio ha detto a Salvini, Salvini ha risposto. Il mio ricordo dei giorni che questo Chef Rubio non sapeva che cosa dire contro Salvini e diceva delle frasi sconclusionate, ma lo diceva, si capiva, lui doveva veramente ogni giorno dire qualcosa per accrescere la sua fama mediatica, fama mediatica che poi lo ha portato anche ad avere dei programmi televisivi di cucina, non di politica ma di cucina. Quindi lui ottiene delle cose grazie a un percorso che non c'entra niente con quello che lui stava facendo. Ecco, Chef Rubio non è nient'altro che un nome d'arte, ma il suo nome è Gabriele Rubini, che forse più che chef in molti lo definiscono cuoco. Cuoco ma non chef. Cuoco è quello che cucina, non è lo chef. E così la senatrice a vita Liliana Segre ha presentato alla caserma dei Carabinieri di Milano 23 querele verso anonimi e una verso conosciuti. Ecco, conosciuti ovviamente non personalmente. Assistita dall'avvocato Vincenzo Saponara ha presentato alla sezione indagini telematiche del reparto operativo nucleo investigativo le sue querele. Si tratta per lo più di ignoti che ora dovranno essere identificati e che negli ultimi mesi sui social o con delle e-mail addirittura hanno inviato messaggi di odio di natura diffamatoria con poi delle esternazioni anche di diverso tipo. E così fra questi c'è anche Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, presentatore del programma Unti e Bisunti ed ex giocatore di rugby, che già nel 2019 era stato denunciato proprio per un tweet in cui definiva abominevole lo Stato di Israele. Rubini giovedì mattina ha replicato alla senatrice via Twitter con un nuovo attacco parlando di silenzi assordanti di Liliana Segre a proposito dell'occupazione della Palestina da parte della colonia di insediamento israeliana e dell'esercito che da 74 anni portava avanti. Insomma ha fatto tutta una sua dichiarazione. Ecco, già settimana scorsa la Segre aveva anticipato la decisione durante il Forum Nazionale delle Donne ebrei d'Italia del 9 novembre a Milano. aveva detto la vita mi ha insegnato a essere libera e senza paura nonostante io sia la più vecchia d'Europa obbligata alla scorta per tutto quello che gli improperi che la gente mi dice intorno. Anche addirittura me ne hanno detto di tutti i colori perché sono vaccinate, non sono una Novax. non più tardi di ieri mi è arrivata un'altra di queste via mail farò causa anche a questa nuova persona che si è presentata via mail dicendone di tutti i colori. Ma io mi dico come fa in mente a venire una persona in mente di andare a dire cose contro una persona di 92 anni cioè è qualcosa di realmente assurdo realmente assurdo l'altro giorno c'era uno che si è infervorato sapete che io i messaggi ormai non li guardo più però quando apro la mia home page del canale vedo gli ultimi tre messaggi che il canale ha ricevuto sono migliaia ogni giorno quindi ogni tanto mi cade l'occhio sugli ultimi tre messaggi e vedo uno che scrive ma cosa dici? Salvini è più grosso di Calenda ha detto beh, è più grosso di Calenda, sì è più grosso di Calenda perché Calenda non è un partito ma è un terzo polo c'è dentro anche Renzi quindi Calenda non ha superato Salvini Calenda ha l'8% Salvini ha l'8% ma Calenda, ma Salvini è più grosso di Calenda ha detto oh mamma mia che livello mamma mia che livello che livello Salvini è più grosso di Calenda la guerra dell'8% e qui capisci che c'è tanta gente che proprio mamma mia mamma mia e ce ne sono tanti ma tanti 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 del Salvini è più grosso di Calenda Calenda azione è federato con Renzi quell'8% che hanno di più è proprio l'8% loro sono una forza politica parliamoci chiaro nei sondaggi non c'è scritto azione vale questo e Italia viva quale e quell'altro alle elezioni sono presentati uniti quindi sono uniti mentre centrodestra sono una coalizione ma non sono uniti hanno delle percentuali separate nel centro-sinistra quelli che è la coalizione che aveva il PD si erano presentati uniti ma oggi sono di nuovo divisi nei sondaggi quindi dire che Salvini è più grosso di Calenda è una fesseria perché Calenda con azione Italia viva non sono come il centrodestra che sono partiti divisi ma che fanno finta di essere coalizzati il terzo polo è un'entità unica è come il PD il PD è la somma di diversi partiti che in passato si erano uniti quindi quando diciamo che il PD ha quella percentuale no non è vero perché il PD è una somma di partiti ho capito ma si chiama PD e vale quello ecco insomma per farvi capire che ne sentite di tutti i colori c'è anche chi si infervora perché Salvini è più grosso di Calenda ma va la va la Salvini è più grosso di Calenda Salvini è falsalvini grazie a tutti e arrivederci